Si svolgerà alle 16 in videoconferenza il nuovo tavolo al mese tra le organizzazioni sindacali, il gruppo Betafence, sulla delicata vicenda dell'azienda di Tortoreto. Un nuovo confronto che i lavoratori attendono da settimane. La storica industria di recensioni metalliche è entrata nell'orbita di un fondo finanziario che vuole chiudere lo stabilimento che produce utile per delocalizzare la produzione in Polonia. Una decisione che comporterebbe la perdita di tutti i 155 posti di lavoro. Alle 16 si sarà il famigerato incontro che ci auspiciamo da tempo. Quello che ci aspettiamo è una risoluzione celere e veloce, che l'azienda faccia un passo indietro, ma ciò non basta perché solo fare il passo indietro non è che ci risolva il problema. Anche perché i clienti stanno isolando, quindi stanno andando via e ci vuole un intervento forte della Carlyle e soprattutto di Marco De Benedetti affinché prenda atto di queste persone della Presidiat che stanno gestendo la situazione drammatica, che non hanno né competenza né un piano industriale e assolutamente non porteranno la beta a nessuna parte. Quindi l'intervento della Carlyle, ci aspettiamo anche che il Ministero oggi abbia contattato la Carlyle Italia, abbia contattato Marco De Benedetti e che la TOD magari ci dia delle notizie positive in merito alla partecipazione della Carlyle. Se questo non dovesse accadere, non credo che oggi saranno soluzioni positive e risolutive per questa avvertenza. L'importante è che la Carlyle venga coinvolta. Ci aspettiamo questo, ci aspettiamo oggi al tavolo che ci dicano qualcosa a proposito della Carlyle. Ma soprattutto dal punto di vista dei numeri, nell'ultimo incontro è stato portato da parte dell'azienda un quadro che non era quello reale? No, assolutamente. Noi siamo pronti oggi a smentire punto per punto tutti i dati dati dalla Presidia che non sono assolutamente veritieri e non riportano la realtà della Betafense di Tortoreto. Noi punto per punto, se dovessero insistere su questa discussione, abbiamo le prove per smentirli e questo faremo.